Ciao a tutti, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video youtube Allora, innanzitutto adoro tantissimo lo sfondo blu, cioè mi piace da matti Sarebbe fighissimo se riuscissi ad utilizzarlo anche per i video ASMR Ma viene un po' difficile in questo momento questa cosa Per il fatto che qui sono tipo con uno spazio gigantesco davanti a me Dietro c'è un muro e c'è l'aggeggino che ho comprato su Amazon per utilizzare gli sfondi, per tenerli eccetera eccetera Se io non facessi questo sarebbe un po' un macello ed è già tanto che riesco a fare questa inquadratura con voi Che avete questa visuale di sfondo eccetera eccetera Quindi è un po' difficile, diciamo in realtà anche per me Ma spero che vi piaccia, a me piace tantissimo, cioè lo trovo veramente strabello Penso che dia un tono molto elegante, raffinato anche al canale o in particolare magari a questo video nello specifico E sono qui per parlarvi di una cosa un po' particolare oggi E quindi secondo me era super carino farlo così, un po' più intimo, un video un po' più organizzato, più speciale del solito Per rendere speciali anche voi quando guardate i miei video e speciali anche a me mentre li registro Per cambiare un po', ne ho fatto uno anche con lo sfondo verde, uno con lo sfondo arancione, rosso, insomma li vedrete un po' in tutti i colori E li acquisto volentieri perché secondo me danno maggiore qualità al video, al canale e possono essere un qualcosa di innovativo anche seppur semplice Sapete che ho anche in realtà lo sfondo in camera quindi ho varie opzioni Però mi piace sperimentare, mi piace fare sempre qualcosa in realtà di nuovo, sono molto aperta a questo punto di vista qui Detto questo però, sono abituata a fare così con i video ASMR Detto questo però, oggi sono qui per registrarvi un video che mi è venuto in mente Mi è passata nella testa l'idea di filmare più o meno qualche istante fa E non era scritto tipo nella mia programmazione dei video se vogliamo chiamarla, tra virgolette così Quindi è anche un po' strana questa cosa per me in realtà Però vabbè E vi chiedo scusa se sono struccata con i brufoletti ma sono in quel periodo bellissimo del mese E quindi sono fortunatissima ad avere un viso super limpido Però in realtà voi mi vedete molto struccata E spero anche che tra virgolette appreziate questa cosa Perché vi fa capire anche la mia naturalezza e la mia spontaneità di essere Sempre qui in questo canale appunto Quindi spero che in qualche modo lo possiate apprezzare Transition Cominciamo su Ho deciso di filmare questo video E questo video sarà il video sul metodo di scuola E uno mi dice Anna ma che cosa stai facendo? Cioè come stai in qualche modo dirigendo il tuo canale? Cosa sta succedendo? Ora vi spiego tutto Allora, ho fatto un video tempo fa Un paio di mesi fa Penso a maggio Se non ricordo male Se qualcuno l'ha visto correggetemi Ma credo di averlo registrato a maggio Un video dove vi ho fatto il metodo di lezione Che secondo me avrete anche apprezzato Anche l'originalità, le idee in generale O tutto quello che io ho voluto creare per voi Mettiamola così E vi è piaciuto molto E quindi ho pensato di registrare il video sul metodo di studio Ma per quello non sono ancora pronta per filmarvelo E quindi in questo momento O almeno prossimamente Non ho intenzione di registrarlo Magari tra una settimana Magari tra un mese anche sì Ma tra una settimana no Perché non è ancora il momento giusto Oggi però è il momento giusto per filmare il video sul metodo di scuola Ed è un video dove io vi darò qualche piccolo consiglio A partire dalla prossima clip Per cercare di essere il più genuini Sinceri e naturali a scuola Andare bene o andare male Ma cercare di fare del vostro meglio Con magari qualche piccolo consiglio Che adesso vi do E che magari vi può essere d'aiuto Sicuramente sono dei consigli che riguardano la mia esperienza Che riguardano me Sono semplicemente dei consigli frutto della mia esperienza personale Però riguardano tutta la scuola Cioè riguardano proprio la scuola Non la lezione Lo studio Un po' tutto Volevo comprendere un po' tutto in generale Secondo me è una cosa figa E quindi proviamoci Vediamo cosa viene fuori So di essere abbastanza orribile in questo momento Ho i capelli che sono un disastro Sono struccata Ho questa Mi sono messa questa coperta Perché richiama tipo il blu Mi sono messa questa coperta Perché ha questa parte Questa parte qua blu Che richiama un po' lo sfondo Ed è gialla È giallo e blu a contrasto Potrebbe anche stare bene Però mi sento un sacco a disagio Oppure è così Ma con quel maglioncino lì ve lo giuro Non lo so Mi sentivo un gobbo di Nutredame Non lo so Vabbè Detto questo Cominciamo subito Allora Innanzitutto Secondo me La prima cosa Potrebbe essere quella di Andare a scuola tutti i giorni Con l'obiettivo Non soltanto di Imparare qualcosa Ma anche di Trasmettere e lasciare qualcosa A qualcun altro Ok? Quindi durante le lezioni Altra cosa Fossi in voi Cioè fossi Sì Fossi Vabbè Quello che è Non andrei Subito A scuola O almeno Io ho sempre fatto così Perché poi Le persone che vedete lì Le vedete tutto il giorno E anche se vi stanno Magari tutte simpatiche Prima e dopo Cioè potrebbe diventare Una cosa un po' impegnativa Essendo che le dovete vedere Magari Da lunedì A sabato E quindi potreste Magari prima di andare a scuola Fare una passeggiata Lì vicino alla scuola Sedervi su una panchina Ascoltare un po' di musica Fare una telefonata Alla nonna Per esempio I nonni Cioè io cercavo sempre O in generale Cerco Nella mia vita Di fare qualcosa Un po' che mi stimolasse Che mi facesse staccare tutto Prima di andare a scuola Proprio Perché secondo me Era un qualcosa Di diverso Di alternativo Non lo so Volevo provarci E quindi questa è una cosa Chiedo scusa tra l'altro Anche per Sì questo video è un disagio Scusate Scusa per il fatto Che lo sfondo L'ho spostato Ma Mi sento ancora Cioè molto più confi Così E so che è molto più figo Tutto blu Senza questa parte Questo pezzo qua Non blu Però portate pazienza Poi un'altra cosa Che mi piace molto E che vi consiglio Come regola giornaliera È di alzare la mano Una volta Né una in più Né una in meno Una volta Ogni ora Di lezione Quindi Se avete Due ore di filosofia Per esempio Se ritenete necessario Fare una domanda Anche nella seconda ora O dire un vostro pensiero Perché non per forza Deve essere una domanda Deve essere un qualsiasi cosa Che vi fa interagire Con il professore E con la classe Con il prof Con il maestro E con la classe Quindi io ve lo consiglio Ogni ora Per esempio Se avete filosofia Italiano e matematica A matematica Fate una domanda Italiano Dite il vostro pensiero E a filosofia Chiarite un dubbio Per dire Secondo me Questa è una regola fondamentale Perché Vi dà la possibilità Di mettervi in gioco E di allenarvi Su quando poi ci sarà Un'esposizione orale Di farvi conoscere Di più anche Dalla classe Per chi vi conosce già Di approfondire la conoscenza E per chi magari è invidioso Tutte quelle cose lì Che in questo momento Non mi interessa Possono riscoprire Dei lati di voi Che magari non sapevano Esistessero Magari saranno Che ne so Ancora più invidiosi Di prima Per dire E il professore E il professore Vede dell'interesse Nei vostri confronti È felice È entusiasto Perché solitamente Nessuno studente Partecipa Proprio attivamente Alla lezione E parlare come una gallina Come un gallo Tutta l'ora Tutte le ore Non è questo Quello che richiede L'intelligenza Secondo me Della scuola Ma Una domanda Allora Secondo me È molto importante Anche perché Vi costringe poi A trovare un qualcosa Da chiedere O con cui interagire E questa cosa qui Fa sì che Mettiate anche voi In moto Delle qualità Che magari potete Sviluppare meglio Perché no Poi Altra cosa Per compiti Verifiche interrogazioni In confrontati Con i compagni O i prof Il giusto È ovvio che I tuoi compagni Vogliono fare bene È ovvio che il prof Vuole che tu Prenda un bel voto È ovvio che il prof Vuole metterti in difficoltà Ed è ovvio Che i compagni Non sempre hanno La loro disponibilità Ad aiutarti Però Se riesci Non Stressarti Diciamo L'animo A paragoni Confronti Cosa ha fatto lui Cosa ha fatto lei Perché Durante il periodo Del covid Che c'era la dad Magari c'è Un'interrogazione Per esempio Di italiano Sudante Per dirvi Sull'inferno Non ho mai chiesto Non mi pare Se non magari Proprio sull'argomento Che magari Non volevo Un attimo Un chiarimento Non ho mai chiesto Tipo Come avesse fatto Una persona Eccetera Perché Secondo me Questa cosa Accresce un sacco L'ansia Tu impegnati Cerca di fare Il tuo meglio Per il risultato Che vuoi ottenere Cerca di fare Il tuo meglio Se vuoi prendere Sei Il tuo meglio Per il sette Il tuo massimo Per il nove Il tuo massimo Per il dieci Per quello che vuoi Ma Valuta i pareri Dei prof E delle altre persone Il giusto Perché poi Rischia di andare In un tilt mentale Ti triggeri tantissimo Che non riesci a uscire Nemmeno tu Ve lo dico per esperienza Ma anche perché vedo E vedevo tuttora Nella scuola Persone che magari Si distruggono l'anima Per questo motivo Anche in altre classi Anche nei corridoi Anche nelle conversazioni Anche magari Sentendone parlare In corriera In generale Io ve lo dico così Come consiglio Da amica Insomma Da ragazza Della porta accanto Se vogliamo dire così Altra cosa Ipotizziamo magari Che un giorno Non sei riuscito A studiare Per una materia O a fare Quei compiti Di quella determinata materia Non farli Magari Mentre c'è un prof Un pochino Noioso Che non ti piace tanto Mentre c'è la ricreazione Mentre c'è una pausa Prima di andare a scuola Perché Vengono fatti male Ok Io parlo soltanto Per un'eccezione Cioè magari qualche giorno Che non sei riuscito A farli Per esempio Vengono fatti male Li fai mal volentieri Non hai un risultato Non sono produttivi Non ha senso Io ti consiglio di Non farli Rischiarla Se te li chiede bene Se non te li chiede meglio No Se te li chiede pazienza Ti prendi la tua responsabilità E anche questo è crescere Se non te li chiede Amen Cioè meglio Però Fare questa cosa Io l'avevo fatta qualche volta E mi distruggeva le giornate Cioè Se qualche volta Magari non riuscivo Soprattutto Quando magari ci sono Cinque compiti Intendo scritti Per il giorno dopo E una verifica Magari ne ho fatti quattro E ho studiato per verifica Quello mancante Ok che era importante Però cioè Avevo la verifica Avevo altre cose Capito Quindi anche se non sono riuscita Magari quella volta A farlo Sto comunque attenta Alle varie lezioni Alle varie attività Che vengono proposte Perché Una cosa che voi dovete sapere E che nessuno Si rende mai conto Ma che è vitale A scuola Nell'università Alle superiori Medi Elementari È che Quello che viene fatto in classe È come se fosse Oro colato per i prof Cioè Qualsiasi cosa Che dovreste Sarebbe fichissimo Se potessimo Nelle notte Del nostro cellulare Avere la pazienza Ogni giorno Di scrivere Cosa abbiamo fatto Nelle varie ore Ed è un consiglio Che vi do Perché io per un po' L'ho fatto È stato molto utile Ma non sempre avevo La briga Di mettermi lì A scrivere Eccetera Quello che dice Un professore O quello che viene svolto Per loro è sacro A loro non interessa Se sul libro C'è scritto Che c'è stata la prima E la seconda Rivoluzione inglese Se lui ti ha parlato Dell'illuminismo Perché lui L'ha spiegato Io ho fatto Le rivoluzioni E l'illuminismo Ma non è assolutamente Rivolto al mio prof O ai compagni In generale E che mi è venuto In mente Perché Ipotizziamo che il prof Ti chieda la rivoluzione Inglese E tu la sai Lui potrebbe dirti Bene Bravissimo Eccetera eccetera Però Se poi Non sai dirgli Per esempio L'illuminismo Se io fossi prof E ho appunto Questa concezione Della questione Per me è importantissimo Ed è super Tipo rigoroso Quello che ho fatto In classe Eccetera eccetera Ci restrei male Perché dico Ok quello lì Ha consultato il libro Magari l'ho studiato Anche a bacchetto Memoria Però poi Questa cosa qui Magari super particolare Super importante Speciale per me Che avevo Accennato un attimino Dell'illuminismo Non me la sai Quindi mi cade In un bicchiere d'acqua Perché magari bastava Che stavi un attimo Attento in classe E riuscivi E collegandomi Essere attenti in classe Significa anche Lavorare con il cuore Cioè non soltanto Con la testa Perché se io fossi Un professore Una professoressa Ma non frega niente Che tu Sai il libro A memoria Secondo me È molto bello Intimo Amorevole Metterci Dell'amore Metterci il cuore Nelle varie lezioni Nei vari argomenti Metterci se stessi Ed è questo Secondo me Il punto La cosa chiave Più importante Che fa la differenza Non vi ho detto tutto Ci sono altre cose Che vorrei dirvi Però se lo riterrò Necessario Farò la parte 2 Perché in questo momento Non voglio continuare Perché Ho delle cose Molto importanti da fare Non riesco Non ho altro tempo Però magari riflettete Anche su questi piccoli punti Che io vi ho accennato Poi sicuramente Farò una parte 2 O magari un video collegato Non preoccupatevi Spero che il video Vi sia piaciuto Vi aspetto domani Alle ore 2 Qui sul canale Per un nuovissimo video Attivate la campanellina Mi raccomando E noi ci vediamo Domani Vi voglio un sacco di bene Grazie per essere stati con me Grazie mille Per aver visto questo video Scusate per Struccata Copertina Condizioni pessime In cui sono Voglio bene Ma sono a casa Con voi Ciao